Javier Girotto, stasera faremo un concerto, oggi è 6 luglio, un concerto dedicato al tango, il progetto si chiama Tango Nuevo Revisite, che è la rivisitazione di un disco storico che è stato il primo incontro fra il jazz e il tango e i personaggi all'epoca, nel 1974, erano Astor Piazzola e Gerry Malia, che per la prima volta facevano confluire questi due generi, sia il tango che il jazz, e questo progetto è una rivisitazione dopo tanti anni da quel lavoro, rivisitarlo in modo cameristico, con pianoforte, bandognone e sax baritono, ovviamente, quindi Alessandro Guiz al pianoforte, Gianni Iorio al bandognone e io al sax baritono. Giornata particolare perché, ahimè, coincide con un luto importante della musica italiana, come la scomparsa del maestro Ennio Moricone, con un festeggiamento particolare perché quasi 500 anni alla mia città di nascita, Cordoba, Argentina, nel suo anniversario di questa città, insomma, cerchiamo un po', è una ripartenza dopo questa chiusura di quarantena obbligatoria, e quindi speriamo che dopo questa sia una ripartenza in salita.